Il Monopoli è quel gioco in scatola a cui abbiamo giocato tutti almeno una volta nella vita e ne abbiamo tutti una copia senza sapere come si è finito in casa. La mia versione è un po' distrutta perché ha più di 30 anni. Eppure se vi dicessi che dietro Parco della Vittoria, Stazione Nord e tutte le nostre belle casoline del Monopoli si nasconde la storia di un gioco che ha venduto più di 275 milioni di copie e copre un terzo dell'intero mercato dei giochi da tavolo globale, un vero e proprio monopolio. Solo nell'ultimo anno il franchising del Monopoli ha fatturato più di 3 miliardi di dollari. Ma come ha fatto un semplice gioco in scatola inventato quasi 100 anni fa a diventare un'istituzione miliardaria e continuare a vendere così tanto bene cancellando ogni tipo di concorrenza? Beh, la storia è sconosciuta di più. È ricca di attivismo politico, strategie aziendali che definirei interessanti e soprattutto è piena di colpi di scena. Basti pensare che ogni anno vengono stampati più soldi del Monopoli che soldi veri e questo la dice tutta. Facciamo un salto indietro nel tempo, più precisamente nel 1904. Elisabeth Maggie, un'attivista politica con la passione per l'economia, inventa The Landlord's Game. Un gioco in cui le persone, tramite un lancio dei dadi, si muovono all'interno di un percorso, la cui discriminante principale è pagare l'affitto ai proprietari dei terreni su cui transitano. E come potete vedere dalla tavola, è particolarmente simile al gioco in scatola moderno a cui siamo abituati. Vi ho detto che Elisabeth è un'attivista politica, non una game designer. Infatti, il suo Landlord's Game ha una finalità educativa che va oltre l'aspetto ludico del gioco. È un gioco nato per combattere il sistema fiscale dell'epoca che vedeva tanto potere monetario e non nelle mani di pochi individui. Il male più grande dell'economia, secondo Elisabeth, sono i proprietari terrieri. Mettetevi in questa situazione. C'è un terreno di un certo proprietario sopra il quale viene costruita una fabbrica. La fabbrica funziona bene. I dipendenti sono felici di prestare la propria mano d'opera all'imprenditore in cambio di denaro. E l'imprenditore vende i prodotti sul mercato incassando dei soldi. Ma, allo stesso tempo, l'imprenditore paga un affitto al proprietario terriero per rimanere sulla sua proprietà e produrre. Guarda caso, l'unico che non dà valore all'economia e non fa girare il sistema è il proprietario del terreno, che si limita ad incassare mentre tutti lavorano. Quella che aveva appena descritto è l'attoria di Henry George, economista dell'epoca che aveva completamente affascinato Elisabeth con le sue teorie. Tanto da farne creare il Landlord's Game, con il quale critica il sistema economico degli Stati Uniti e più in generale il capitalismo. Perché il gioco è stato costruito per premiare volutamente chi riusciva ad arricchirsi per primo. E nel mente i poveri rimanevano sempre più poveri, perché dovevano pagare i ricchi. Ed è il motivo per cui si litica così tanto quando giochiamo a Monopoli. Perché andare in banca rotta e arricchire metaforicamente lo zio ubriaco natale senza alcun tipo di merito non è mai bello. Ma il punto è proprio questo. Il Landlord's Game era nato per far incazzare le persone che ci giocavano. Per mostrare quanto era inefficiente il sistema economico dell'epoca. Il problema è che la nostra Elisabeth ottiene l'effetto opposto. Il gioco inizia ad attirare interesse e a vendere molto bene. Vende centinaia di copie in pochissimo tempo. Alcuni iniziano a creare la loro versione con i nomi delle strade in cui vivono. Giocano con soldi veri e si riuniscono la sera con i vicini per giocare. Un gioco nato come lotta al capitalismo e come strumento didattico per insegnare teorie economiche e sociali sta diventando l'emblema stesso del capitalismo. Non solo insegna al capitalismo perché a quel punto tutti sognano di essere i più ricchi della città immaginaria e scoprono che ad essere un proprietario terriero ci sono più vantaggi rispetto al lavorare in fabbrica. Come se non lo sapessero prima ma con un gioco è più facile visualizzarlo. Ma come mai ha avuto così tanto successo in così poco tempo? In un momento storico in cui sono già presenti sul mercato dei giochi da tavolo la sola differenziazione rispetto alla concorrenza non è sufficiente. Per far sì che un gioco di società abbia successo è necessario che abbia tre caratteristiche e due di queste il nostro Landlord's Game le aveva. La terza è ciò che ha permesso a Monopoli di conquistare il mondo dei giochi da tavolo e la vedremo nel corso del video. Il primo elemento è la componente ludica. Devi intrattenere partendo dallo storytelling, dall'immaginario che crea, fino alle meccaniche di gioco. Il nostro Landlord's Game già dal nome è interessante perché permette a persone comuni di medesimarsi in un proprietario terriero e incassare dei soldi. Il sogno di ogni americano nel ventesimo secolo. Il secondo punto è che deve essere scalabile. Vendere un gioco in scatola chiamato caccia ai diamanti con dei diamanti veri vendendo tutto al prezzo di mille euro non serve a niente. Deve essere riproducibile in modo semplice abbattendo i costi, mantenendo i materiali poveri e privilegiando solo l'idea e la creatività che è ciò che permette ai clienti di trascorrere ore senza annoiarsi o quasi, visto il gioco del Monopoli ma su questo ci torniamo dopo. Le persone devono percepire l'ingegno e il divertimento intinseco del gioco non la qualità dei materiali. Quando è l'ultima volta che avete comprato un gioco in scatola delle carte o un qualsiasi altro oggetto simile e avete pensato no, non ne vale la pena è solo un pezzo di carta costa troppo. Ecco, in questo caso parliamo di una semplice tavola di cartone con qualche carta e un paio di dadi. Perfetto. Involuntariamente Elizabeth ha messo le basi per un nuovo modo di interpretare i giochi da tavolo che regge da quasi un secolo. Tutto questo movimento nei primi del Novecento non può passare inosservato e infatti nel 1932 il Landlord's Game passa nelle mani di Charles Darrow un venditore fallito che però intravede le potenzialità. Per prima cosa contatta un artista per rifare i disegni e le icone del gioco disegnato da Elizabeth. Gran parte delle icone che vediamo oggi sulle carte sono le stesse di cento anni fa e poi dà un nome molto più iconico. Se l'obiettivo del gioco è instaurare un monopolio e distruggere i propri amici non può che chiamarsi Monopoli. Ma c'è un problema il gioco è troppo simile a quello di Elizabeth e lei lo ha brevettato quindi bisogna girare la cosa come comprando il brevetto di Elizabeth ma Charles non ha soldi quindi nel 1935 si presenta dai Parker Brothers che avevano un'azienda di produzione di giocattoli e di giochi da tavolo. Gli mostra il Monopoli e li convince a comprare il brevetto di Elizabeth. È la stessa azienda che qualche anno dopo lancerà sul mercato anche Cluedo e Isico quindi il fiuto per le grandi idee questi ce l'avevano. E infatti il Monopoli piace. Prima di metterlo in commercio però comprano il brevetto di Elizabeth per 500 dollari di fatto ingannandola perché Elizabeth si aspettava di vedere la sua versione pubblicata sulla larga scala e invece da un lato si ritrova la versione farlocca del Monopoli con tutta la promozione che gira attorno al suo finto inventore Charles storia di rivalse e di successo imprenditoriale mentre dall'alto per obblighi legali vede il suo Land of the Game pubblicato in una veste completamente diversa volutamente costruita per evitare che le persone lo collegassero al Monopoli. Elizabeth vorrebbe protestare e lo fa ma ormai è troppo tardi perché il Monopoli ha un successo incredibile sin dal primo anno quasi 2 milioni di copie vendute che per il 1936 visto il mercato piccolissimo dei giochi da tavolo è un numero esagerato Parker Brothers incassa 4 milioni di dollari l'equivalente di circa 90 milioni del valore attuale perché rispetto al gioco di Elizabeth aggiungono una terza caratteristica che garantisce al prodotto il successo la competizione la competizione legata a un mondo fittizio ma estremamente simile al nostro dove si pagano le tasse succedono imprevisti e riceviamo uno stipendio ogni volta che passa del tempo e noi transitiamo dal via il tutto giocando con dei soldi cartacei che seppur finti aumentano il grado di realismo ci sono addirittura i campionati del mondo di Monopoli e tra l'altro l'ultimo campione del mondo è italiano Nicolò mi devi dire subito una cosa come cavolo hai fatto a diventare il campione mondiale di Monopoli? ciao è una cosa che è successa oramai nove anni fa perché è successa nel 2015 che ho vinto ovviamente il mondiale ero che cazzeggiavo al computer è venuto fuori un banner che dice ah sei forte a Monopoli vuoi vincere un viaggio in Cina? io sì però per arrivare al mondiale mi sono prima iscritto ai regionali sono arrivato terzi regionali poi sei anno dopo sono state nazionali ho vinto i nazionali mi hanno pagato il viaggio in Cina per fare i mondiali e ho fatto il mondiale ricostruire una piccola società all'interno di un gioco in scatola in grado di rappresentare il successo e il fallimento monetario senza alcuna vera conseguenza facendo sognare inconsciamente le persone su imprese possedimenti e abitazioni è forse la caratteristica principale per cui il Monopoli è diventato così tanto popolare in così poco tempo il gioco è così giocato da più di 80 anni perché determinate dinamiche e insegnamenti sono attuali devi sapere come investire anche nell'immobiliare ricevi una sorta di stipendio quando passi dal via devi essere oculato con le finanze perché appena hai un imprevisto puoi scannare tutto non vince il migliore hai una quantità di denari limitata e devi fare delle scelte vende così tanto bene che viene esportato in ogni parte del mondo fin dal primo anno e qui arriva un'altra genialata per vendere in tempi brevi anche all'estero è necessario adattarsi alla territorialità e alla cultura delle nazioni in cui veniva promosso quindi a seconda della nazione i soldi vengono adattati alla valuta locale e le caselle prendono il nome delle vie storiche rappresentative della capitale ad esempio nel mio vecchio monopoli degli anni 90 le banconote sono lie e le strade hanno nomi tipici italiani in Italia il gioco arriva in piena epoca fascista e infatti possiamo leggere strade incredibili come Largo Littorio e Via del Faccio ma questa è un'altra storia poi quando è andato a Cuba sotto il nome di Capitolio Castro non aveva capito benissimo che era una critica al capitalismo e per un po' l'ha vietata adesso invece ci si può giocare nei successivi 30 anni dalla pubblicazione Monopoli ha una media di un milione di copie vendute all'anno diventando così il gioco da tavolo più venduto di sempre e questa crescita costante continua di anno in anno e di decennio in decennio la domanda a questo punto bisogna farla come può un gioco in scatola che ha le stesse dinamiche da 60 anni e non è cambiato in niente continua a vendere per così tanto tempo dalla sua creazione l'aspetto più interessante del Monopoli e dell'azienda che lo controlla è la capacità di adattarsi al proprio periodo storico questo è tipico di ogni grande brand che è rimasto sulla cresta dell'onda nel corso dei decenni ma il caso Monopoli forse è uno dei casi più emblematici una parte della vita era adesso sempre meno il contatto Hasbro si era già aggiornata mettendo il Monopoli Bancomat la capacità con cui il gioco si è adattato alle evoluzioni e ai cambiamenti della società è francamente incredibile soprattutto dal punto di vista della comunicazione ad esempio tra gli anni 70 e 80 abbiamo il trend delle mascotte nella prima grande era della tv pubblicitaria sempre più brand iniziano a riconoscersi in una figura di fantasia come un animale o un cartone animato per renderlo estremamente identificabile nelle pubblicità o negli eventi le Olimpiadi iniziano a creare mascotte proprio in questi anni con l'idea di creare un elemento che possa rimanere più a lungo nella testa delle persone e il Monopoli non è da meno ecco quindi che nasce Mister Monopoli ci sono cambiamenti politici o religiosi in una nazione? non c'è problema cambiamo la versione cambiamo leggermente le regole e gli imprevisti ed ecco che il gioco continua ad avere senso riesci ad adattarsi come un camaleonte a qualsiasi tipo di situazione a loro quello è sicuro sono sulla cresta dell'ondra da sempre per esempio in Inghilterra i campionati nazionali li hanno fatti su un double decker e giravano per le città tipo un circo in fiera e tu andavi a giocare dentro l'autobus a due piani il prodotto deve continuare ad avere senso in ogni luogo indipendentemente dalla nazione e dalla situazione un po' come NordVPN il servizio che vi permette di navigare in sicurezza accedendo da ogni server in ogni parte del mondo l'ho utilizzato anche per realizzare questo video e ha deciso di sponsorizzarlo ad esempio ho trovato un documentario super interessante sulla storia del monopoli ma disponibile solo per gli Stati Uniti quindi ho usato NordVPN condefinendovi come se fossi negli Stati Uniti e ho potuto guardarmelo senza problemi è una feature che utilizzo anche quando devo acquistare qualcosa online o fare abbonamenti per servizi che riguardano il mio lavoro sia come content creator sia come professionista ogni tanto connettendomi da altre parti del mondo mi è capitato di trovare dei prezzi più bassi è un servizio che adopterò anche quando mi sposto per lavoro mi è capitato diverse volte di lavorare in treno o in aeroporto connettendomi al wifi pubblico e ho sempre usato NordVPN per proteggere i miei dati e bloccare in automatico siti web pericolosi o pop up fastidiosi sarà capitato sicuramente anche a voi di dovervi connettere a wifi pubblici e per questo se volete usare NordVPN e supportare il mio lavoro qui su YouTube potete cliccare il link in descrizione per avere 4 mesi gratis se non sarete soddisfatti potete chiedere un rimborso nei primi 30 giorni torniamo alla storia siamo negli anni 90 e questa crescita repentina culmina con l'acquisizione di Parker Brothers da parte di Hasbro che fa del Monopoly il proprio prodotto di punta è qui che il Monopoly si concretizza perché a fine anni 90 si stima che Hasbro abbia una quota di mercato sui giochi in scatola pari all'85% perché oltre al Monopoly possiede giochi come Twister Battaglia Navale Cluedo e perfino Magic per darvi un'idea del potere di questa azienda la Federal Trade Commission degli Stati Uniti ritiene ci siano evidenze di monopolio sopra quota di mercato del 50% qui siamo all'85 e qual è uno dei principi del Monopoly imprenditoriale? che se una cosa funziona bene non la devi cambiare è uno dei dettami della macroeconomia il monopolista ha una fetta di mercato talmente elevata che nessuno è in grado di levargli lo scetto quindi l'Asbro per via di questo potere può permettersi di non innovare più il gioco e non investire in ricerca perché tanto conserverà comunque la sua quota di mercato il Monopoly insieme agli altri giochi già citati dall'azienda era talmente profittevole che ha reso inutile lo sviluppo di nuovi giochi l'Asbro si è limitata a comprare diritti su giochi non prodotti da loro e inglobare altre aziende è il motivo per cui vediamo così tante versioni speciali del Monopoly perché è più semplice vendere un prodotto che tutti conoscono ma attraverso delle versioni particolari in modo da sfruttare l'immagine di altri per vendere me stesso come il Monopoly di Breaking Bad quello sui meme di Spongebob fino ad arrivare alla versione Miss Monopoly la nuova icona femminista questo garantisce meno sforzo pubblicitario meno costi di sviluppo e più visibilità grazie all'audience del marchio con cui collaboro non vedo ragioni per cui dovrebbe passare di moda è uno di quei giochi non so mi viene da pensare al calcetto alcuni lo chiamano il biliardino da spiaggia o al ping pong agli scacchi sono giochi che restano persino lo scaraveo ha venduto molto molto meno o risico che ha venduto molto molto meno secondo me non scarranno presto ecco è ironico come un'azienda sull'ordo del fallimento negli anni 30 come la Parker Brothers si sia ritrovata parte di un monopolio a distanza di 60 anni grazie a un gioco sul capitalismo nato con idee antimonopolistiche leggiamo che c'è stato anche un antimonopoli poi intorno agli anni 70 di un professore che secondo lui il gioco stava poi andando a rappresentare il capitalismo e lui ha detto no fermi tutti questo gioco è nato per non essere per il primo del capitalismo e quindi poi ha creato la versione antimonopoli e successe altre vicissitudini e c'è da dire un'altra cosa che è la critica anche principale è questa è un sistema che non funziona è un sistema dove uno vince e gli altri tre perdono tanto che viene visto come critica al capitalismo a questo punto nella nostra storia siamo già nel nuovo millennio le vendite continuano a crescere e continuano ad essere a un livello imparagonabile per gli altri giochi nel 2013 le vendite di monopoli arrivano a 400 milioni di dollari pari al 30% degli incassi di tutti i giochi da tavolo del mondo a distanza di 100 anni le vendite non si fermano attorno al monopoli vengono creati eventi e collaborazioni con artisti e prende abbigliamento muovendosi in campi apparentemente esterni al gioco da tavolo può essere un elemento di studio come iniziare i bambini all'economia quindi proprio il discorso che tu hai una quantità denaro illimitata cioè chi dice che l'economia studia come i desideri delle persone vengono soddisfatte attraverso delle risorse limitate la prima cosa che hai nel gioco è una risorsa limitata cioè che hai il tuo denaro quello che ti insegna è che con il lavoro quindi girando attorno al tabellone superando la casella del via hai uno stipendio con lo stipendio magari riesci a vivere ma se devi fare dei soldi devi investire e creare delle entrate passive l'ultima trovata della Hasbro è del 2023 come per ogni gioco fisico che si rispetti che è successo non può mancare ovviamente la componente digitale e il monopoli non è da meno prima nella floresta classica e poi come monopoli go una versione che sicuramente vi sarà uscita nella pubblicità perché è invaso a qualsiasi social dell'ultimo anno in sostanza è una versione dopaminica del monopoli non possono ovviamente mancare le transazioni in app per acquistare appunti bonus e accelerare le tempistiche grazie alle quali monopoli go ha fatturato 2 miliardi di dollari in 10 mesi dal lancio e vi assicuro che questa non è una pubblicità al gioco tutti questi fattori hanno portato la creazione di un brand estremamente forte e riconoscibile ma soprattutto l'hanno portato a creare un'istituzione in ogni abitazione oggi c'è un monopoli ed è il primo gioco che ci viene in mente quando pensiamo al termine gioco da tavolo ho voluto raccontare questa storia da un punto di vista imprenditoriale perché spesso viene sottovalutata o non è conosciuta tendiamo a sottostimare il valore di un oggetto come questo semplicemente perché lo diamo per scontato ma dietro a questi soldi finti si nascondono delle strategie aziendali e di marketing ben precise che hanno permesso a questo gioco da tavolo di essere a distanza di quasi 100 anni il gioco da tavolo più venduto del mondo lo so questo video è completamente diverso dagli altri per me è un test la storia l'ho trovata molto interessante e ho voluto comunque portarla sul canale fatemi sapere con un like un commento un'iscrizione al canale se volete vedere altre storie simili perché a me personalmente piacerebbe parlarne noi ci vediamo al prossimo video